Giovedì 23 maggio un'intera giornata sarà dedicata al ricordo del 27esimo anniversario della strage di Capaci. A Roseto più di mille studenti della provincia di Teramo saranno insieme con danze, canti e testimonianze e tante personalità importanti nella lotta alle mafie. Un'intera giornata dedicata al ricordo nell'occasione del 27esimo anniversario della strage di Capaci. Si inizierà la mattina alle 10 con le performance dei quattro istituti rosetani, danze, balli, canti, ma tante testimonianze di testimoni di giustizia, il sacerdote Don Agnello Manganiello, generali della pubblica sicurezza, generali dei carabinieri e tante figure importanti per parlare ai ragazzi di quello che è successo 27 anni fa per non dimenticare Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta. Ma non finisce lì perché poi alle 21 un'intensa commovente partecipata fiaccolata per le vie di Roseto degli Abruzzi, sempre per non dimenticare chi ha dato la propria vita per uno stato migliore e più giusto per tutti. Voglio ricordare giovedì 23 maggio, tutte le televisioni lo ricorderanno, è il giorno della strage di Capaci, della morte di Falcone e quindi è necessario e doveroso scendere in piazza per ricordare queste persone. 23 maggio vi aspetto dalle 10 alle 21.